Non vedi che c'è? Che c'è? Tattoo, bello? Ma veramente i tatuaggi non mi piacciono tanto a me. Non ti parevo. Guarda che carino questo. Io mica tanto, tutti squali e retteli. Un animale meno aggressivo, no? Te vuoi tatuare, una vegora, fammi capire. Ma anche tu hai ragione, è che non mi piacciono proprio i tatuaggi a me. Dai, entriamo. Per fare che? Faccio un tatuaggio. Ma non ci penso proprio. Tu, se te lo fai tu, io entro e ti guardo. Però io non me lo faccio il tatuaggio. Se soffri di allergia, puoi rischiare irritazione, gonfiore anomalo, prurito e sciocca anafilattico. Che ne dici se me lo faccio qui? Dove? Qui. Qua? Mhm. Ah, è carino qua. E tu perché non te lo fai qui? E io ...